Saluto tutti i credenti in Cristo. Sono il vero San Francesco, non quello che siede in Vaticano a Roma, sul trono di Pietro, di nome Bergoglio. Che qualcuno, forse gli adoratori di Lucifero, ha fatto Papa, con il compito di distruggere la Chiesa di Cristo. Ultima inaccettabile decisione che ha preso, è dare il battesimo a persone trans e ai figli di coppie gay. Quindi, gay e trans possono inoltre essere padrini-madrine di battesimo e testimoni di nozze. La Chiesa Cattolica si sta secolarizzando e sbaglia, perché non è la Chiesa che deve inseguire la società, ma la società inseguire la Chiesa se questa è portatrice di valori. A proposito del battesimo e della comunione, non siamo contrari. Piché il battesimo come la comunione per un cristiano sono la salvezza e tutti ne hanno diritto. Mentre il fatto che chi vive non conformemente alla dottrina possa fare il padrino è semplicemente inaccettabile. Inoltre andando di questo passo e tradendo la dottrina dei padri della Chiesa, il Vaticano sta prendendo una pericolosa deriva protestante, che sta allontanando le persone di Cristo. Invito tutti a pregare affinché quest'uomo, ritorni il prima possibile nel suo paese natio. Grazie. Grazie.